Cercando di mettere in contrapposizione l'autorità portuale e il comune, mi dispiace deludere, ma ho sbagliato, strada, tempo e mestiere. C'è una sintonia profondissima tra l'autorità portuale e l'amministrazione comunale, sul disegno da portare avanti per il conto, per il corpo e per la città, che sta dando i suoi frutti e che ci avrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, altre tappe significative.